Così come altra associazione a delinquere, il trust sui carburanti, lo vedete tutti i momenti, questi aumenti, queste cose, da anni le associazioni difese ai consumatori cosa dicono? Ma almeno facciamo un provvedimento, almeno blocchiamo, congeliamo il prezzo del carburante per tutta la settimana, non si può cambiare dell'arco della giornata il prezzo, ma ci sono dei casi che mentre ci mettono la benzina iniziano a farci il pieno a un prezzo, a metà è già aumentato e alla fine è aumentato una terza volta, come in Germania negli anni 20 che valevano miliardi di marchi, il pane quando c'era l'inflazione arrivata al 75 mila per cento, ecco ci fanno questo e anche lì che cosa fa il garante? Che cosa fa l'antitrust? Cosa fa il presidente Catricalà? Con l'accento sulla A? Si riserva, dice che secondo voi lui c'è qualcosa che non va, mazza o se ne accordo anche Catricalà? È un cartello, è evidente che ci sia un cartello, quindi bisognerebbe intervenire. Grazie. 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 Grazie.